Siamo con Luca Scinto, numero uno, noi siamo di gruppo compatto, terzo posto con Pacioni. Eh, gruppo compatto, il gruppo è stato compatto, si è stata lavorata, niente, è partito un po' dietro, cioè si è piantato, non è che si è piantato, è partito troppo dietro, ha rimontato, però sono contento perché ha visto un ragazzino, Castacchiotti, e sono contento anche per Stefano Giuliani che se lo merita. Grazie Luca. Grazie a voi.